ben ritrovati questo nuovo video che come potete vedere dal titolo rappresenta la terza puntata di pillole di ubuntu ecco qua pillole di ubuntu numero 3 chi segue il mio canale ha già visto le puntate precedenti sa di cosa si tratta ovvero di un video che raggruppa non più di 4 o 5 curiosità o utilità che io incontro nel mio uso quotidiano del mio sistema operativo ubuntu e che trovo possano essere utili sia a me stesso quindi documentando in questo video il documento anche per me sia per chi segue questo canale generalmente si tratta di comandi da terminale perché appunto come sappiamo ormai immagino sappiamo abbiamo acquisito il fatto che spesso i comandi da terminale sono altrettanto validi di programmi con interfaccia grafica ma hanno anche il vantato di essere generalmente più spicci e più snelli meno pesanti per il sistema e quindi sempre molto utile è sempre molto utile conoscere eventuali alternative da terminale per ottenere determinati risultati con il nostro sistema operativo preferito e allora partiamo con questa terza puntata di pillole di ubuntu partiamo con un comando questo qua ecco che faccio un bel coppia incolla per mostrarvi il risultato quindi coppia e incolla nel nostro terminale cosa fa questo comando elenca tutti i file tutte le cartelle nascosti e non con una dimensione più leggibile per noi rispetto al solo ll ovvero se noi facciamo eseguiamo questo comando sono posizionato sulla mia sono posizionato sulla mia cartella home quindi ho aperto il terminale e per difetto sono posizionato sulla mia home e vedete come vengono elencati sia cartelle che file cartelle file anche nascosti quindi come ho detto nella descrizione quel puntino davanti sono quelli nascosti senza puntino davanti sono quelle non nascoste in azzurrino sono cartelle nascosti o no quindi sempre in colore azzurrino non in azzurrino sono i file quindi scritti in bianco sono i singoli file cosa intendo con dimensione più leggibile intendo proprio questa questa colonna che vedete qua della dimensione è espressa in kilobyte o megabyte a seconda del caso e quindi siamo abituati a leggere dimensione dei file in kilobyte o megabyte ecco questo intendo perché se io uso un altro comando quello che cito qua fra parentesi ll questo comando giusto per mostrare la differenza se eseguo questo comando vedete che le dimensioni dei file di risultato praticamente identico mi mostra cartelle nascosti o no file nascosti o no però vedete che la dimensione dei file adesso qui non so dove l'inizio ecco qua la dimensione dei file espressa in byte praticamente vedete 4096 86 69074 questo di 559 116 ecco queste cifre questi numeri sono chiaramente meno meno intuitivi per noi non ci danno immediatamente la sensazione di un file quanto sia grosso rispetto a parlare di k di kilobyte o di megabyte ecco perché questa forma di comando ci permette di ottenere una forma più leggibile per noi immediatamente più interpretabile ecco per noi quindi se rifacciamo il nostro comando eccomi qua rifacciamo il nostro comando vedete che ottengo lo stesso risultato ma appunto espresso in k o se è il caso in megabyte eccetera eccetera dipendenza della grandezza del file quindi vedete che per esempio il file che prima era rappresentato con una cifra di 500 e passa mila byte adesso viene mostrato come grande 547k kilobyte quindi è più immediatamente interpretabile per noi ecco questo quindi un comando che ci dà una forma più leggibile vedete qui ecco c'è un file da 9 mega e mezzo vedete c'è la m invece della k 9 mega e mezzo eccetera eccetera quindi molto più facile da leggere anche a terminale le grandezze le grossezze dei file delle cartelle poi un secondo comando che vi propongo in questo video è questo cosa permette di fare questo comando quindi facciamo un bel copia incolla anche di questo prima di tutto un po incolla permette di visualizzare i dettagli dei dispositivi audio presenti sul nostro sistema quindi con questo semplice comando facciamo enter vediamo cosa succede ecco qua che esce un bel po di informazioni che riguardano specificatamente i dispositivi audio presenti sul vostro pc ecco comincia qua per carità non stiamo a leggere tutti i dettagli ovviamente se no non finiamo più ci sono che dettagli tecnici proprio tipo l'intervallo di decibel eccetera eccetera da dove va a dove il volume impostato al 33 per cento di questa sorgente audio che è un output quale modulo quale driver del kernel sta gestendo questo dispositivo audio di che tipo è il campionamento l'audio i canali frontale sinistro frontale destro eccetera 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 vedete audio interno stereo cioè veramente questo comando è specifico per ottenere tutti i dettagli possibili tecnici delle nostre modella nostro delle nostre schede audio presenti nel nostro sistema vedete che nel mio caso è un pc basato tutto su architettura intel quindi anche la scheda audio è un una scheda punto intel vedete qui si trova il fornitore della scheda hardware il driver anche qui eccetera eccetera quale driver viene usato per gestirla che tipo chi è il venditore per esempio qui vedete il vendor name intel corporation eccetera eccetera che tipo di scheda audio è la serie eccetera eccetera ecco vabbè qua si può sempre andare con google a vedere il modello se proprio interessa comunque questo è il modello della scheda audio eccetera voi avrete naturalmente visualizzati i vostri dettagli poi ci sono altre sorgenti audio qui ci sono vari altri dettagli vedete più andiamo in giù più abbiamo altri tipi di dettagli di queste schede audio eccetera eccetera ecco qua mi soffermo giusto qui prima di andare avanti vedete qui samson technology samson go mic è il microfono che sto usando per registrare l'audio quindi è un microfono usb che ho connesso al mio pc e sta registrando in questo momento l'audio e la marca il produttore è samson eccetera eccetera ed è tutti i dispositivi audio connessi o meno cioè connessi o integrati volevo dire nel nostro pc sono sono visualizzati vedete samson eccetera eccetera voilà quindi questo è un comando che diciamo molto semplice quindi copia e incolla di questo comando al volo potete avere tutti i dettagli tecnici della vostra parte audio prossimo comando che sembra complicato in parte lo è anche ma visto che già qui pronto da usare diventa anche semplice nello stesso tempo è un comando interessante che permette di verificare se una determinata funzionalità è compilata e disponibile nel nostro kernel che stiamo usando allora frase complicata per dire una cosa tutto sommato semplice nel frattempo faccio solito copia e incolla ecco incolla allora cosa vuol dire questo noi sappiamo che i sistemi operativi basati su linux sono appunto basati su linux che è un kernel che è il nucleo il cuore dei nostri sistemi operativi che stiamo usando che sia ubuntu che sia un'altra distribuzione basata comunque su kernel linux il kernel linux quando è compilato ovvero quando è preparato per essere eseguito su un pc per poter essere eseguito su un pc per essere interpretato dal processore centrale del pc e quindi essere eseguito lo può essere preparato quindi può essere compilato con varie opzioni non è che un kernel è una cosa una scatola che è sempre uguale per tutti ma ogni distribuzione linux può diciamo così decidere a suo piacimento a seconda delle sue necessità di compilare il kernel con più o meno funzionalità integrate, incluse ecco che grazie a questo comando possiamo verificare se una determinata funzionalità appunto è già inclusa pronta nel nostro kernel ecco è in linea di massima posso dire che se stiamo parlando di ubuntu di solito il kernel è molto ben fornito ovvero il kernel fornito con ubuntu da canonical è un bello cicciottello ovvero contiene parecchie, molte, tante funzionalità quindi è un bel kernel già completo per chi è più esperto naturalmente può anche compilarsi il kernel per conto suo con più o meno opzioni come preferisce però quello standard diciamo così di fabbrica da canonical per ubuntu è un buon kernel completo di funzionalità e possiamo verificarlo appunto con questo comando allora in breve giusto per dovere di cronaca e competenza anche se sono varie cose un po' tecniche non le sorvogliamo ma nemmeno ci entriamo troppo spieghiamo pezzo per pezzo come è composto questo comando tutto questo comando quindi vediamo che la parte finale questa uname uname-r ritorna alla versione del kernel che attualmente è usato cioè quella che è installata ed è attiva in questo momento è stato usato in questo momento sul vostro pc questa parte di comando è quello che vi permette di tornare la versione del kernel che state usando poi c'è quella parte iniziale questa del comando grep-i-funzione tra parentesi quindi cerca è proprio questa la parte del comando che cerca la caratteristica la funzionalità che noi vogliamo indagare nel kernel e sapere se è attiva o meno nel nostro kernel questa funzionalità quindi in realtà questa parte del comando parentesi quadra funzione chiusa parentesi quadra è una parte variabile lì dobbiamo metterci la funzionalità che noi vogliamo verificare ecco quindi queste sono le due parti principali in cui si suddivide il comando quindi questo cerca la funzionalità qui è dove andare a cercare quindi nella cartella boot barra config righetta versione del kernel attivo in questo momento quindi qua dentro è dove si va a cercare la funzionalità e qui è il comando di ricerca della funzionalità allora questo comando tornerà un risultato in una forma particolare che distingue le voci punto se trova la funzionalità che noi stiamo cercando tornerà un risultato e quel risultato è da interpretare in questo modo nel modo seguente quindi la voce della nostra funzionalità che abbiamo cercato se è per così dire etichettata con un uguale a y che sta per yes vuol dire che la funzione è compilata nel kernel ovvero attiva pronta da usare nel kernel e supportata da questo kernel lì pronta e attiva se invece la voce è etichettata con un uguale a m vuol dire che la funzione è compilata quindi pronta supportata ma che viene caricata solo alla bisogna ovvero se questa funzionalità è richiesta da un programma o dal sistema in un determinato momento questa funzione viene caricata solo in quel momento e non è sempre caricata in memoria come le funzionalità etichettate con y quelle sono sempre presenti e attive quelle con la m sono lì pronte e vengono recuperate solo quando sono necessarie poi ci sono anche delle voci etichettate con n uguale a n e questo vuol dire praticamente n sta per no vuol dire che quella particolare funzionalità non è né compilata quindi non è pronta ad essere usata e non è nemmeno supportata da quel particolare kernel che state usando eventualmente possono esserci anche dei commenti ritornati dal risultato di questo comando i commenti sono sempre preceduti da questo simbolo che io in italiano chiamo cancelletto mi sembra che in inglese lo chiami no dash ecco qua questo qua quindi il cancelletto e poi il testo del commento quindi sono delle parti delle voci di funzionalità sotto commento e quindi sicuramente non attive e non compilate nemmeno queste allora facciamo degli esempi adesso perché parlando così in modo astratto senza vedere sott'occhio il risultato di un comando forse anche un po' difficile capirlo e allora vediamo un paio di esempi per esempio un esempio che potrei definire banale è indagare se il mio kernel supporta il file system di tipo ext4 e xt4 dico banale perché è già da parecchio tempo che le varie distribuzioni linux usano per difetto questo file system quindi è praticamente escluso che il comando mi ritorni che non è attivo questo modulo perché il file system quindi i file su disco vengono archiviate e gestiti proprio con questo tipo di file system e xt4 quindi è praticamente impossibile che mi venga che mi ritorni per intenderci questa voce x4 uguale a n ovvero non compilata e non sopportata ma deve tornarmi sì quasi sicuramente quindi proviamolo ho qui il mio comando al posto di funzione io ci scrivo e xt4 quindi vengo qui sul mio terminale eccoci qua quindi cancello la parte variabile del comando e ci metto il mio bel e xt4 facciamo enter e vediamo cosa dice eccolo qua allora vedete che xt4 viene trovato in varie funzionalità del kernel e in effetti come mi aspettavo vedete che tutte le funzionalità attive sono tutte etichettate con uguale a y quindi uguale a yes ovvero sempre caricate in memoria supportate e sempre attive ovviamente visto che con il disco quindi con i file e il sistema stesso che carica e scarica le sue informazioni sul disco ne ha sempre bisogno di questo modulo quindi non poteva essere altrimenti tutte le voci trovate sono etichettate con uguale a sì quindi ovviamente xt4 è una funzionalità supportata dal kernel ce n'è una sotto commento vedete qui il cancelletto davanti che è quella però la funzionalità di debug ovvero quella che serve agli sviluppatori per controllare verificare se funzionano i programmi come si aspettano che debbano funzionare ecco in poche parole e quella ovviamente in un kernel operativo in un sistema operativo rilasciato la versione nel mio caso ubuntu 12.04 quindi praticamente è vecchia di due anni non non è attiva la modalità debug perché è un sistema operativo rilasciato ufficiale produttivo in produzione quindi l'unica funzionalità che riguarda x4 che non è attiva nel kernel non è compilata e non è pronta non è disponibile quella di debug di x4 stesso tutto il resto ovviamente è attivo poi qui mi ero preso nota di qualche altro esempio per esempio sempre stando sul tipo di file system vediamo se nel mio kernel è attiva come si dice sono attivi scusate i moduli che gestiscono il tipo di file system di windows ntfs vediamo un po' se sono attivi allora riprendo il mio comando con la freccetta in su freccetta verso sinistra mi cancello x4 e metto ntfs faccio enter e vediamo che nel mio kernel è attiva una funzionalità che gestisce che riconosce il tipo di file system ntfs quindi io potrei innestare nel mio pc un disco esterno formattato con ntfs il mio kernel lo riconoscerebbe però vedete che a differenza di x4 che è il file system principale è marcato etichettato con uguale a m uguale a m abbiamo detto prima che è una funzione che è pronta né più né meno di quelli uguali a s però caricati alla bisogna in effetti io per esempio credo che in due anni non ho mai usato né un appennetto usb né un disco esterno compilato formattato in ntfs quindi il mio modulo il kernel è lì pronto ma non l'ha mai richiamato quindi non occupa memoria per niente e lì se mai un giorno ci fosse bisogno so che il mio kernel lo prevede ma non occupa spazio nel mio sistema non carica il mio pc per niente perché appunto non è usato sicuramente come x4 ecco poi ce ne sono un paio vedete qua sono un paio di moduli che non sono né attivi né compilati fra i quali quanto vedo qui sembrerebbe è uno che è quello per poter scrivere anche in formato ntfs probabilmente attivo per difetto solo il modulo che permette di leggere un sistema un file system ntfs ma non di scrive comunque per me poco importa perché sicuramente non andrò mai a formattare un disco con un file system tipo windows che a me non serve facciamo ancora un altro paio di esempi perché no qui parliamo di moduli audio abbiamo già parlato del comando precedente che mostra tutti i dettagli dell'hardware che riguarda l'audio del nostro pc e qui andiamo a vedere il kernel cosa supporta come moduli audio quindi hda vuol dire i moduli che hanno a che fare con l'audio non so se hd voglia dire i definition audio forse comunque definizione audio diciamo così facciamo enter e vedete che qui ci sono ben più moduli che gestiscono l'audio del pc c'è un modulo vabbè intel chiamato intel che alla bisogna viene caricato ci sono vari moduli vediamo un po' realtech di vari gestori e via sigmatel questi qui sono vari fabbricanti di schede audio immagino cirrus hdmi che sono le prese hdmi del vostro pc quindi tutti i moduli vedete etichettati con yes perché sono tutti disponibili e pronti all'uso eccetera 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 ecco vedete che comunque anche qui escono delle belle informazioni guardiamo anche l'ultimo già che mi sono preso la briga di marcarmi questo esempio anche l'ultimo video vediamo un po' ciò che ha a che fare con la gestione video del nostro kernel vediamo ecco esce ancora più roba vedete quanta roba alcuni sono sotto commento alcuni sono attivi tanti sono dei moduli pronti ma non caricati vedete tutti etichettati con la m dove è che inizia eccolo qua video qui immagino ci siano tutti i vari V4 L2 la gestione video per esempio che arriva dalle webcam ci sono varie sigle di gestione di moduli di gestione video proprio multimediale a livello proprio di gestione dei video vediamo un po' se anche qui varie marche credo fornitori di parti video eccetera qui sono molte sigle anche non tanto riconoscibili però vedete che il kernel DVB ecco il digital video broadcast quindi la la gestione del del video digitale della trasmissione digitale terrestri eccetera eccetera alcune sigle si riconoscono altre sono molto più criptiche comunque vedete che il nostro kernel nel mio caso appunto un kernel compilato per ubuntu ci sono parecchi moduli che gestiscono che garantiscono la gestione ottimale di streaming video dei video multimediali della visione dei video eccetera eccetera insomma di tutto ciò che ha a che fare con la parte che ha a che fare con la parte video ecco perfetto e questo appunto era un comando che può particolare se vogliamo anche un po' complesso in sé sembra un po' complesso un po' criptico come comando però ci permette appunto di interrogare specificatamente con una stringa di ricerca se quella tal caratteristica del nostro sistema operativo è gestita in che misura dal dal nostro kernel ecco qui vedete che sotto commento sono suddivise in categorie queste voci video giusto visto che è un elenco piuttosto lungo vedete qui sono i decodificatori video ci sono dei moduli che permettono di vedere i video proprio avi mpeg eccetera eccetera ci sono tutti i vari moduli video e audio codificatori i codificatori solo video i vari chip grafici che permettono verosimilmente di ottimizzare la visione dei video eccetera eccetera ecco insomma tutto quanto ha a che fare sotto il cofano insomma dietro le quinte del nostro sistema operativo lo possiamo interrogare con questo comando perché tutto quanto come sappiamo è gestito supportato dal nostro kernel il cuore del nostro sistema operativo passiamo a un'altra serie di comandi che ci permette di visualizzare nel terminale quindi evitando di aprire un apposito programma con interfaccia grafica che è comunque sempre più pesante di un terminale possiamo accelerare le cose diciamo così usando comandi come questi ecco per esempio questo comando df-h cosa ci permette di fare questo comando lo eseguiamo ci permette di visualizzare nel terminale molto semplicemente l'occupazione corrente l'occupazione attuale dei nostri dischi senza aprire il monitor di sistema dei nostri dischi se ne abbiamo di più se abbiamo un disco solo come il mio caso vedrò l'occupazione di un disco ecco il mio disco devsda1 che ha le dimensioni originali di 290 giga formattati e sarebbe 300 gigabyte comunque 290 gigabyte usati 171 disponibili ancora 104 e usato per il 63% ecco vedete senza aprire andare a cercare il monitor di sistema e aprirlo io posso vedere con un semplice comando in pochi istanti l'occupazione attuale del mio disco principale del mio disco nel mio portatile ecco l'altro comando permette di visualizzare quanto occupano le cartelle sul disco senza aprire l'analizzatore dei dischi sapete che in ubuntu c'è anche un programma che vi permette di visualizzare graficamente con una specie di diagramma torte le zone del disco occupate da determinate cartelle e file con questo comando potete fare la stessa cosa il terminale ovviamente non in modo grafico però potete farlo in modo leggero senza aprire quel programma in questo caso per esempio il comando in quanto tale è du-h e poi io ho aggiunto la cartella di analizzare la cartella scaricati per esempio nella mia home facciamo andare in questo comando vedete che in pochi istanti mi dice che vediamo un po' la cartella scaricati include qualche altra sottocartella a sua volta che occupano questo spazio vedete k o megabyte megabyte 820k la cartella scaricata in quanto tale è grande in questo momento 1,4 gigabyte eccetera eccetera e qui cambiando cartella ovviamente vedrete l'occupazione della cartella stessa e delle sue sottocartelle quanto occupano quante fette di disco occupano le varie cartelle e sottocartelle rispetto a quella che avete indicato qua nel comando quindi così un paio di comandi semplici che possono sostituire la bisogna se magari il vostro pc è particolarmente carico e non volete aprire la dash o il monitor di sistema per andare insomma o l'analizzatore di dischi che magari ci mette un po' ad aprirsi ecco qui avete una versione diciamo così più stringata ma anche più veloce meno spettacolare perché non è un'interfaccia grafica però l'informazione che avete bisogno ve le da anche questi comandi ve le danno anche questi comandi l'ultima sì l'ultima pillola di questo terzo video sulle pillole di Ubuntu è un comando che permette di che ci permette di ottenere sempre a terminale le informazioni dettagliate sul nostro sistema su tutto il nostro sistema mentre il comando che vi avevo mostrato credo per secondo era specifico per la parte audio quindi i dettagli tecnici della parte audio questo comando INXI che si chiama così INXI è un gestore delle informazioni dettagliate su tutto il sistema quindi schede audio video tastiera prese usb che ne so mouse tutto quello che ha a che fare webcam tutto quello che ha a che fare con il nostro sistema con il nostro pc perché vi mostro INXI perché mi ha incuriosito così ho provato ad usarlo mi ha incuriosito visto che offre molte informazioni quindi è un'ottima alternativa a altri diversi programmi che sicuramente esistono con interfacce grafiche più o meno ben fatte e questo INXI appunto non ha l'interfaccia grafica però offre informazioni molto dettagliate anche migliori rispetto ad altri programmi appunto magari più carini da vedere con interfaccia grafica però magari meno efficaci ecco INXI trovo che sia uno dei più efficaci che ho visto finora cosa può servire un programma di questo tipo ecco può servire se abbiamo bisogno di supporto per il nostro pc quindi avere i dettagli tecnici può aiutare chi ci dà supporto proprio magari anche hardware sapere quale pezzo magari che si è rotto sostituirlo eccetera per esempio ecco proprio così buttandoli un esempio oppure semplicemente chi ci dà supporto software magari non riesco a far funzionare qualcosa come penso chiedo supporto chi mi dà supporto mi dice ma che tipo di scheda grafica hai che tipo di scheda di tastiera hai di maone eccetera eccetera e qui con questo comando di questo tipo io posso ottenere queste informazioni oppure semplicemente per valutare se il nostro pc è adeguato ad un certo software o ad un certo sistema operativo possiamo visualizzare tutte le informazioni e dire ma sì questo pc si supporterà questo programma sì no eccetera eccetera oppure anche solo per propria conoscenza e curiosità niente vieta di avere di andare a grufolare dentro nelle informazioni del nostro sistema è giusto per curiosità perché non lo facciamo mai e allora ecco che io vi presento qui appunto una delle alternative che esistono che è appunto Inksi Inksi è a partire da Ubuntu 1310 è disponibile direttamente comodamente nell'ubuntu software center quindi voi aprite il vostro Ubuntu software center cercate Inksi e ve lo installate se avete una versione di Ubuntu 1310 o superiore se invece ne avete una inferiore come nel mio caso che sto usando tuttora Ubuntu 12.04 potete usare comunque Inksi a patto che prima esegate questi tre comandi per aggiungere un repository PPA quindi aggiuntivo aggiungete questo repository fate l'aggiornamento del vostro sistema per far riconoscere il nuovo repository e poi infine installate Inksi quindi copia e colla di questi tre comandi che ormai se seguite il mio canale avete imparato a riconoscere sempre il trittico di comandi che permette di aggiungere un PPA di aggiornare il sistema e di installare quello che avete bisogno una volta fatto questo possiamo usare Inksi anzi prima un'ultima nota è possibile almeno a me è successo che durante l'installazione di Inksi mi apparisse questa richiesta ecco si apre una finestrella di questo tipo e mi chiede di configurare HDDTemp e HDDTemp è un modulo che permette di leggere la temperatura dei dischi del vostro PC e di visualizzarlo o di utilizzarla per qualcosa ecco nel nostro contesto io direi rispondiamo di no come ho indicato in questo screenshot scegliamo con il tabulatore della tastiera perché qui non è interfaccia grafica ma interfaccia caratteri come se fosse un terminale scegliamo di no con il tabulatore enter e andiamo avanti nella installazione non so se succeda a tutti o se succede per esempio più solo a me perché uso ancora una versione di Ubuntu ma è un po' vecchiotta la 1204 io non so se installando in versioni più recenti esca o meno questa finestra io ve la mostro perché a me è successo così sapete cosa fare non siete lì bloccati nel dubbio faccio o non faccio sì o no rispondiamo di no che poi il resto funziona ecco fatta questa doverosa nota e premessa vediamo alcuni esempi di uso per concludere questo video di INXI quindi come per praticamente tutti i comandi a terminale c'è il manuale di INXI accidenti integrato e lo si richiama con MAN SPAZIO INXI quindi facciamo MAN SPAZIO INXI ed ecco che appare il classico manuale con le istruzioni con tutte le opzioni possibili immaginabili che prevede questo comando questo programma da terminale INXI quindi vedete il solito manuale che vi ho già mostrato in altri video anche nei corsi degli script bash vi ho mostrato come si usa il terminale manuale poi qui in basso in fondo per uscire per chi non l'ha mai usato schiacciate semplicemente la lettera Q è uscita da questa modalità manuale Q e ci ritroviamo di nuovo nel nostro terminale vediamo alcuni esempi di utilizzo quindi INXI senza nessuna opzione il primo il più semplice facciamo un bel INXI anzi prima magari pulisco la situazione fatto ENTER ecco facciamo un bel INXI e vedete qui niente di più semplice questo è proprio il minimo la base vi mostra che tipo di CPU quindi di di processore ha il vostro PC nel mio caso vabbè dual core Intel eccetera eccetera a quale velocità vanno le CPU 1700 MHz eccetera eccetera il kernel la versione di kernel che sta usando il mio PC in questo momento che è un 64 bit è acceso da circa 4 giorni la memoria che sta usando sono 1738 MB su una disponibilità di 3,7 insomma di 4 GB la mia RAM è 4 GB l'hard disk che è 320 GB vuoto e un 57,4% in uso processi quindi servizi processi ed emoni attivi in questo momento il mio sistema sono 228 il client è la shell ovvero il terminale in questo momento sto usando un terminale e INXI alla versione 1,9,19 ecco questo è proprio il minimo la versione minima di INXI e usarlo senza opzioni c'è un'opzione che diciamo un po' più come dire non è utile per ottenere informazioni in più ma più così estetica permette di cambiare colore all'output vedete che di base è azzurrino e grigetto con l'opzione meno C e dandogli un valore fra 0 e 32 si può cambiare colore adesso ve ne faccio vedere uno che ne so meno C 15 e vedete che è diventato un po' poco leggibile violetto su violetto e di nuovo azzurrino magari cambio ancora colore meno C ops scusate meno C 10 ecco vabbè invece dell'azzurro è diventato verde è rimasto green insomma ci sono tra 0 e 32 possibilità per cambiare colore scegliete quello che vi piace se proprio non vi piace la versione originale di base quindi a parte il colore questa è la versione base di Inzi poi c'è informazione di base ma un po' più estese quindi non l'output minimo come questo ma leggermente più esteso si mette un meno B come opzione quindi lasciamo pure il colore lì tanto meno B aggiungiamo l'opzione meno B e vedete che c'è uno specchietto un po' più organizzato un po' più più esteso qua vedete che il sistema quindi come si chiama il mio pc il kernel non stiamo qui a ripetere tutto quanto lo potete leggere tranquillamente voi usando provando questo comando vedete che qui più esteso comincia a dire che anche il desktop è la Unity 5.20 sto usando l'interfaccia grafica Unity 5.20 la distribuzione Ubuntu 12.04 Precise il mio pc è un paccarbello è vero è il produttore del mio pc il modello specifico è Easy Note eccetera vedete che comincia a essere molto dettagliato questo INXI pur essendo ancora a livello di informazioni di base eccetera eccetera poi appunto il sistema operativo la macchina quindi l'hardware il BIOS eccetera eccetera la CPU che è il dual core quello che abbiamo già visto prima la grafica quindi una scheda Intel di seconda generazione eccetera 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 la scheda di rete network scheda di rete internet eccetera eccetera i dischi ce ne sono più di uno nel mio caso ne ho uno solo comunque questo qua e informazioni come prima quindi quanti processi stanno funzionando vedete che un attimo fa erano 228 adesso sono diventati 227 vedete qua sopra 228 adesso siete che uno non era più necessario il sistema l'ha spento è attivo da 4 giorni la memoria eccetera eccetera ecco qua magari ecco e in ultimo finisce sempre col dirci la versione di Inksi in uso voilà come ultima cosa vediamo il comando il più esteso possibile quindi l'opzione che ci dà tutto quanto riesce a darci è il meno F maiuscolo quindi rifacciamo il comando meno F e vediamo che il sistema Inksi ci torna uno specchietto simile a quello con l'opzione B ma ancora un attimino più esteso un po' più lungo non stiamo qui di nuovo a rileggere le informazioni però sono ancora più dettagliate ecco forse guardando qui come ci mostra le informazioni capite anche perché mi piace Inksi rispetto ad altre opzioni grafiche magari un po' più complesse un po' più sofisticate ma questo veramente permette anche dei copie e colla facili e dà a colpo d'occhio tutte le informazioni necessarie per identificare il nostro sistema a tutti i livelli hardware e software ecco qui un paio di link informativi ve li lascio sempre per quanto riguarda Inksi e con questo ho concluso questa terza puntata di Pillule di Ubuntu vi mando i miei saluti e vi attendo al prossimo video ciao ciao